Circa il possesso di un pozzo Abimelech, il re di Gerar, prese nel suo harem Sara, moglie di Abramo, credendo che fosse sua sorella, ma saputo che ne era la moglie, la restituì spontaneamente, Genesi 20,14. Dopo una questione circa il possesso di un pozzo, egli strinse un patto di amicizia con Abramo e la località venne chiamata Bersabea, Pozzo del Giuramento, ma anche Sette Pozzi, Genesi 21,31-33. Perché la nostra religione si serve ancora dei pettegolezzi di una storia vecchissima? Commento perché non intuiamo ancora l'assoluto.